Non sono tutte a norma le residenze per anziani e le case di riposo in Abruzzo e quanto appurato dai carabinieri del NAS di Pescara che nell'ultima settimana hanno ispezionato sette strutture, ovvero 5 RSA e due case di riposo a prevalente accoglienza alberghiera. E questo anche al fine di monitorare, in sinergia con le ASL, quei focolai già in atto, dove sono state avviate indagini epidemiologiche e minuziosi accertamenti da parte della Polizia giudiziaria. Irregolarità sono state riscontrate in due case di riposo, una nell'Aquilano e una nel Pescarese. Nelle due strutture infatti non erano stati predisposti i protocolli covid idonei, mentre le unità mediche delle aziende sanitarie hanno appurato che l'assistenza offerta agli anziani non sarebbe appropriata. Nel complesso nella nostra regione sono quattro le persone segnalate alle autorità giudiziarie competenti per violazioni penali, tre quelle segnalate alle autorità sanitarie per violazioni amministrative ed è stata avanzata anche una proposta di chiusura per una struttura. I controlli dei servizi d'ospitalità e cura delle persone anziane seguono un'esplicita richiesta del Ministro della Salute Roberto Speranza, che nell'ultima settimana ha portato all'esecuzione di 232 ispezioni in tutta Italia, presso strutture sanitarie e socioassistenziali, quali residenze sanitarie assistite di lungodegenza, case di riposo, o comunità alloggio, con la finalità di accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione all'epidemia e nel contempo individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi assistenziali e di mancato possesso dei titoli abilitativi professionali da parte degli operatori. In 37 strutture della penisola sono state riscontrate regolarità, contestando complessivamente 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative, deferendo all'autorità giudiziaria 11 persone, segnalandone ulteriori 42. In particolare, gli esiti hanno evidenziato 24 violazioni in materia di misure di prevenzione alla diffusione del Covid, ovvero il 40% di tutte le irregolarità riscontrate, riconducibili all'assenza di piani preventivi anti-Covid e 9 episodi alla loro mancata attuazione, come l'individuazione di percorsi e aree dedicati, le modalità di gestione dei casi e di comunicazione all'autorità sanitaria, la programmazione delle fasi di pulizia e sanificazione, le prescrizioni per l'accesso dei visitatori in condizioni di sicurezza. In misura minore, inoltre, sono state rilevate anche infrazioni relative al possesso e all'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, sia assistenziali che impiegati in altre mansioni, nonché relative alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alla presenza di igienizzanti e disinfettanti. Le verifiche hanno evidenziato anche 35 irregolarità inerenti al livello di assistenza fornita agli ospiti e all'adeguadezza strutturale dei locali, individuando operatori privi della necessaria qualifica professionale e riscontrando la presenza di un numero superiore di anziani rispetto al limite previsto e carenze igieniche nella preparazione dei pasti. In quattro situazioni sono emerse criticità particolarmente gravi, tali da richiedere un immediato provvedimento di sospensione dell'attività assistenziale.